11 dicembre 2019, siamo qua in via Monteverde nel parcheggio del negozio dei cinesi, via supermarket dei cinesi, là in fondo c'è l'ospedaletto infantile, una volta qui di fronte c'era la Lidl, adesso mi giro perché Gianni ha insistito talmente tanto per fare questo video, Gianni, ciao innanzitutto, cosa ci vuoi far vedere? Voglio far vedere che questa zona qua dovrebbe essere tutta pulita perché si viene a scopare per terra, a spazzare, mentre invece se questo parcheggio alla sera fosse chiuso che non ci sarebbe nulla, ma fammi vedere che cosa c'è, cosa c'è? Guarda qui per terra, che cosa c'è? C'è i profilatici a tutto andare, una volta gli davi il nome di Profiterol, poi dopo vengono qua, aprono le ante che si mettono dietro, abbiamo anche i pastiglioni qua, anche i pastiglioni, ed entrano qua dentro a questo quadro? Si, si mettono dietro a queste ante per lo farsi vedere, insomma, chi non ha la macchina, in conclusione Gianni, qui vediamo ancora, in conclusione che ci sono tante sporcazioni, dovrebbero trovare dei posti un po' più consoni che qua dentro a questo... No, basterebbe che non sporcassero la terra, guarda qua, beh, dopo il piacere si mangia anche, vediamo tutte queste schifezze, mamma mia, va bene, saluti i tuoi amici, questo gabbiotto di contatori che dovrebbe essere chiuso, va bene, va bene, c'è qualcos'altro lì dietro, aspetta un po', c'è anche un odore terrificante, probabilmente qualcuno ha anche defecato, chi vuole scopare da seduto, ah ecco, abbiamo anche la seggiolina, la poltroncina, bene, bene, a stare comodi, bene, quindi abbiamo fatto pubblicità al posto, chi è interessato sa dove venire, saluti i tuoi amici Gianni, ciao ragazzi, arrivederci al prossimo video, va bene.